In questo video vi insegnerò come fare la sigla della prima serie di Dragon Ball. Questo tutorial sarà molto semplice, almeno per voi, per me è stato un coso nel sedere, però va bene lo stesso. Allora, prima di tutto vi faccio sentire la canzone in generale, come si ascolta, cioè, la canzone in Minecraft, ok? Vi faccio sentire la canzone in Minecraft, sentiamo. Dovete prendere 31 blocchi musicali, questi qui, e dovrete mettere i primi 5, cioè 1, 2, 3, 4, 5, distanti un blocco, cioè dovete metterli in questa posizione qui, con un blocco distante uno all'altro, i primi 5. Dal 6 al 7 ci devono essere 3 blocchi di distanza, per poi mettere la redstone e queste due cose, non mi ricordo come si chiamano. Dal, questo è il numero, 3, 5, 6, dal 6, no, dal 6, eh? Dal 6 al 7, cioè questi qui, un blocco di distanza, 7 e 8, un blocco, dall'8 al 9, due blocchi di distanza, dal 9 al 11, un blocco di distanza, tutti i blocchi. Dall'11 al 12, due blocchi, dall'11 al 15, un blocco di distanza, dal 15 al 16, due blocchi, dal 16 al... 12 blocchi di distanza, cioè nel senso, 12... Da questo blocco qui, sono un blocco di distanza fino al... Ma no, allora, questa è la distanza che ci devono essere i blocchi. Quindi, guardate, io ve lo faccio vedere, secondo me se dico dal primo al secondo è un casino, invece se lo vedete, forse lo capite meglio, guardate, faccio vedere tutte le distanze che ci sono tra i blocchi, guardate. Ovviamente potete metterli in qualsiasi modo volete, potete metterli in tipo che fanno come un quadrato, oppure in qualsiasi cosa vi trovate, potete farlo anche sotto una costruzione, ok? Ok? Faccio vedere... Questa è la distanza che dovete avere tra i blocchi, la maggior parte è un blocco, solo poche volte ci sono tipo due o tre blocchi di distanza. Ora, bisogna, c'è la cosa più importante, dopo vediamo il fatto della redstone e degli spazi. Il primo blocco deve essere, dovete cliccarlo 13 volte, per far fare poi il suono che serve. Quindi il primo 13, il secondo 13, il terzo blocco 11 volte, il quarto blocco 8, il quinto blocco 13 volte, poi c'è lo spazio, il sesto blocco 13 volte, il settimo... Ho caso. Non ho messo il coso qui, ma questo è anche 13, il 13 è anche questo, poi questo qui è... ho perso il conto comunque. Vabbè, comunque mi starei seguendo, no? Questo è... si deve cliccare 11 volte, anche questo 11 volte, 13 volte, 6 volte, qui non ho messo ancora niente. Ah no, quando non metto niente vuol dire che è ripetizione. Quindi 6, 6, 6, 6 e 6. Poi, questo qua, 5 volte, 6 volte, questo qua, 6, 6, 6, 6, 6, 4. Poi dal 4 abbiamo l'1 e poi c'è lo spazio e poi abbiamo 6 e 10 volte. Queste sono le volte in cui dovete cliccare i blocchi. Ora, io mi sono già perso nei conti, nei numeri, però dovreste farci, alla fine non è che vi servo io a dire questo numero 1, 2, 3, 4... Alla fine, cioè, capite, no? Le distanze sono queste. Dovete cliccare, faccio vedere, eh? Faccio cliccare qui. Dovete cliccare due volte. Allora, davanti al primo blocco dovete mettere il ripetitore di pietra rossa e dovete metterlo, dovete cliccare due volte sopra, guardate. Uno, due. Al secondo blocco, cioè davanti al secondo blocco, dovete cliccare una volta. Al terzo blocco, una volta. Quarto blocco non dovete cliccare, lo lasciate così. Poi c'è questo lo spazio. Questo comunque è il sesto blocco, non è il quarto. Cioè, io non devo più contare, perché sono stupido. Poi, qui, bisogna aprire al massimo. Quindi dovete cliccare uno, due, tre, quattro volte dovete cliccare. Al secondo, dovete cliccare una volta. Questo qui dovete metterlo e non cliccare niente. Lo stesso per questo. Lo stesso per quattro blocchi. Poi, spero che state capendo. Che se non state capendo, sto facendo questo video per senz'è. Vabbè, alla fine magari vi spiego in velocità e magari capite. Comunque, questo qua si deve cliccare una volta. Poi, qui non si deve cliccare. Qui si deve tirare al massimo. Qui si clicca una volta. Qui non si clicca. Manco qui, neanche qui, neanche qui. Qua una volta, una volta. Tira al massimo. No, 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 no. Anzi, no, no, questo no. Sì, una volta. Due volte. Massimo. Massimo. Due volte. Due volte. Una volta. Ok? Credo che ci siamo capiti, no? Cioè... Cioè... Capito? Cioè... Ebbè... Cioè... 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione